1, 2, 3, bravo, 1, 2, bravissimo, metti bene le mani dietro, ok, ancora, 2, 3, bravo, ancora 2, bravo, ok, 1, 2, ottimo, bravo. Ok, Tomas, facciamo un po' quel movimentino lì di destra e sinistra, farvi vedere, via, 1, a gamba, ancora di là, vai, 1, 2, 3, ancora, 1, 2, 3, allunga le mani, la mano dietro mi raccomando e la mano sopra, e via, 1, 2, 3, ultima volta, bravo, 1, 2, 3, ottimo, bravo Tomas, ok. Bravissimo, via, ora indietro, dall'altra parte ora, eh Fili, vai, sì, vai, via veloce ora, via, 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 hop, e la chiudo, buono, bravissimo, pronto Fili? Via, 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 ok, giro, ottimo, via, piedi, mettiti bene dentro, si riparte, via, veloce, stop, apro, bravissimo, ancora, altri due Filippo, eh, mettiti bene, via veloce, andiamo, andiamo, apri, 1, 2, l'ultimo Filippo, bene dall'altra parte, poi ti rialzi, eh, vai, apri, si, alzati in piedi con una mano, Bravissimo, bravissimo, che hanno sei? Facciamoli vedere un attimino questo esercizio qua che stavamo trovando prima, in attacco, e via, ginocchio avanti, e mi fermo, mi rialzo, ginocchio e mi fermo, bravo, via, ok, attacca la palla ancora, su, bravo, gli ultimi due, eh, Fili, 1, va bene, ginocchio, ottimo, bravissimo, bravo, basta così, Grazie a tutti